Bene, a questo punto dopo aver visto come si struttura un primo sistema particellare vediamo un attimino in maniera più approfondita alcuni suoi parametri e come si comportano. Abbiamo visto che per creare un sistema particellare bisogna andare sotto il command panel, abbiamo Particle System e abbiamo visto noi lo spray. Lo spray, se clicchiamo andiamo a creare, possiamo creare questa icona con una direzione, naturalmente la sua direzione indica anche dove andranno le particle, in questo caso verso il basso. Possiamo accentrarla verso il centro degli assi per comodità e già che ci siamo invertiamo la sua direzione con un classico mirror. In questo modo avremo la direzione verso l'alto. Selezioniamola e andiamo a vedere alcune sue proprietà. Abbiamo visto come non siano legate la quantità di particelle che abbiamo in viewport a quella del rendering. Difatti se noi abbiamo un 50% che indica praticamente nel quantitativo il 50% delle particles in render, avremo meno particelle in fase di visualizzazione ma avremo lo stesso quantitativo, che in questo caso è 100, in fase di rendering. Naturalmente la dimensione delle varie particelle dipende anche dal drop size. In questo caso essendo molto lontani, essendo molto piccole, non le vediamo molto bene. Quindi andiamo a aumentare la loro dimensione e vediamo come infatti aumentino. Abbiamo anche visto, abbiamo anche definito come ci sia la differenza tra treta edro e facing. Il facing è praticamente una tipologia che è sempre perpendicolare alla camera, quindi anche se io mi sposto nello spazio, lo renderizzo nuovamente, se non hanno sempre perpendicolare alla camera. E questo aiuta molto in fase di lavorazione su alcuni sistemi poiché si possono applicare delle mappe di opacità. Ad ogni modo vediamo allora come si comportano altri parametri, per esempio lo speed. Lo speed va a definire la velocità in base naturalmente all'unità di misura che abbiamo. possiamo dare anche un valore intermediario tipo 20,5 oppure 21,8. Quindi sono dei valori che sono di modalità integer, quindi una modalità intera. Quindi si possono avere anche dei valori decimali. E poi abbiamo la variazione. La variazione in questo caso va a interagire anche sulla direzione verso l'esterno. Ora visualizziamo a dot, mettiamo il 100% e vediamo come di fatti questi si dispongano anche verso l'esterno naturalmente con una variazione che dipende anche naturalmente dalla velocità. Se è maggiore alla velocità andranno anche nel senso opposto, quindi andranno anche sotto la nostra icona. Abbiamo anche la possibilità di far partire a un tempo differente dallo 0. Quindi se io vado a impostare 10, nei primi 10 frame non avrò l'emissione di particelle e poi avrò l'emissione di particelle dal decimo frame in avanti. E la loro vita va a indicare quando moriranno. Quindi quando dal frame 10 C la prima particella che viene creata durerà per un tempo di 50, quindi per 50 frame. E invece le altre, e così via per le altre. Naturalmente essendo, non sappiamo qual è la prima particella in questo caso, quindi non sappiamo qual è la prima particella che va anche a morire. Ma di sicuro, come vediamo, se aumentiamo questo valore più lunga sarà comunque la traiettoria e lo spazio di creazione delle nostre particles. Notiamo anche che per os più è grande questo valore, meno particles abbiamo, poiché questo valore qua definisce anche la... questo valore è strettamente collegato al render count. nel senso che se io devo creare 100 particelle in 100 frame, creerò una particella a frame. Se invece devo creare 100 particelle in 50 frame, creerò 2 particelle sostanzialmente per ogni frame e così via. Quindi avrò più particelle per ogni frame. Naturalmente possiamo dare anche un birt rate, quindi in base al rate avremo una costruzione, un'emissione di particelle. Quindi in base a 30, ogni frame avrò... ogni 30 frame avrò la costruzione di particelle.